Eccoci ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video con me, io sono su me, Levenorion, episodio numero 19, un episodio che secondo me forse è uno dei peggiori di tutta la saga, perché poco di interessante se non la squadra cinese, perché secondo me la Cina è l'unico vero grande ostacolo che il Giappone ha sempre trovato, l'unico, perché comunque io ho visto nella squadra cinese la stessa voglia, grinta, determinazione e protagonismo, voglia di vincere, quanto il Giapponese, o forse un pochino di più, tanto che io per assurdo ho ipotizzato anche nella volta scorsa che secondo me la finale cinese poteva benissimo essere la squadra protagonista di un futuro in Azuma Eleven, per come se la giocavano davvero bene, comunque, ovviamente la partita ferma sul 2-1, 2-1 per la Cina, e quindi dalla panchina si incita al gol, la formazione Jiangxi è una delle altre tattiche, una delle tantissime tattiche che ha la Cina, per questo game piace davvero un sacco, a livello della tattica è davvero fenomenale questa squadra, che permette di fare un pressing uomo a uomo veramente molto ferrato, come ci ricorda il giornalista. Il pinguino perfetto è la mossa di Aizaki, che senza Hiroto non può portare a termine quella che i pinguini demoniaci e idilliaci, come si chiama, paradisiaci, però ovviamente Aizaki viene fermato e quindi gli avversari ritornano alla carica, la carica con un'altra tecnica speciale, anzi tattica, perché la Cina vive molto di tattica e questo è frutto dell'allenamento di Chukinunne, sappiamo Chukinunne quanto sia bravo, secondo me da quanto ho capito, più ad allenare il gruppo che l'individuo. Se ci fate caso, infatti, molte tecniche speciali sono state realizzate non grazie a Chukinunne, ma per merito del giocatore. Chukinunne ha sempre affinato la tattica della squadra, infatti vediamo qua l'invasione mongola, che è un altro tipo di tattica offensiva. Avevamo visto la formazione di Jiangxi, avevamo visto quella tattica che permettesse di volare in cielo e poi tirare a Liao, e ne avevamo visto un'altra, insomma almeno quattro tattiche, quindi sicuramente molto interessante come squadra. Proiettile Celeste ci riprova Liao, ma per fortuna io ho temuto il peggio che Asura del Colosso riuscisse già a subire un gol, ma per fortuna no. Ci riproverà per una seconda volta, dunque il bello della Cina è che non si arrende, anche se siamo 2-1 per i cinesi, loro continuano ad attaccare ed è questo il bello, il Giappone solitamente quando arriva a vincere, quando arriva in risultato positivo, poi solitamente la partita finisce, quindi non c'è molto più da attaccare, invece la Cina si è portato un bel vantaggio fin dall'inizio e continua ad attaccare, voglia sempre di fare gol, quindi secondo me ha una grinta ancora maggiore, forse troppa, rispetto al Giappone. Dico forse troppa perché alla fine sul 2-1 perché dover spegnare tutte queste energie, però per far capire ai giapponesi che comunque i cinesi non sono da meno. Un piccolo flashback che forse questa è la parte più interessante perché ci fa un attimo capire ancora una parte del passato di Liao, ancora prima che venisse vestita con la scena in cui Chukinun acchiappa appunto Liao lì al mercato, perché sei anni prima, quindi io penso sempre in quel momento lì in cui poi incontro Chukinun, notiamo che i ragazzi sono in realtà ragazzi di strada, come sapevamo che vivono sotto un tetto, diciamo un orfanotropio, non so, però comunque senza troppi regole o vincoli, in cui purtroppo si vede a sapere che non sia più cibo per soldi, per portare avanti questa iniziativa, non sono da chi proposte, con quale termine, con quale scopo, ma di fatto che loro scapperanno da qua e poi incominceranno l'avventura con Chukinun. Un piccolo dettaglio che comunque faceva un attimo quadrare il vero passato definitivo di questi ragazzi, mi piace un sacco a me questa coppia, Liao e, oddio non mi ricordo il nome di quest'altro, ma sicuramente in una ipotetica squadra se ci sarà mai un gioco, perché ormai qua stiamo parlando di sempre più là, Nazumene Venare, Seorion, insomma, sono veramente due buonissimi attaccanti, infatti li vedremo anche protagonisti fino all'ultimo con una loro tecnica che poi vedremo. Questo mi ricorda un sacco Kai, Kai Zero, che è uno della quale perfetta, vi ricordate quanto io amo questo giocatore della quale perfetta, ecco, ho messo nella mia squadra definitiva sul cono stones, è uguale, identico, vabbè, comunque. L'allenatore Chius sta diffondendo il calcio dalla gente senza da denaro. Si sa che Chukinun non ha mai fatto, non si sa bene a quale scopo in realtà, forse è l'unico tassello che ancora manca e che vorrei un attimo capire, Chukinun è la formazione da allenatore, ecco, il come si iscrissa all'albo. Diciamo che probabilmente è stata la Cina, dunque cominciamo a capire che è stata la promotrice del suo allenamento, dei suoi allenamenti, dei suoi insegnamenti, quindi sicuramente grazie alla Cina lui si fece un nome, però il come arrivò al Giappone, questo è ancora un passaggio che io non capisco, cioè come venne chiamato, perché è come se io mi presento davanti a un direttore sportivo e dica, io sono forte, so dare veramente tanto, fatemi allenatore, non lo so, manca ancora questo passaggio che sicuramente un giorno capiremo. Ancora un po' di grinta infondata comunque dalla squadra che il Giappone è un nome che ha detto che si sta rendendo, anzi ci sta provando, però ovviamente è molto difficile riuscire a segnare e quantomeno rendere un'azione offensiva nel migliore dei modi. Circo Massimo, una mossa di Caleb che ora mi viene un dubbio se l'abbiamo già vista o di nuova, ma di fatto che era un bel po' se l'avessimo già vista e che non veniva utilizzata, tanto da riuscire addirittura a fare gol, non me l'aspettavo, mancano 5 minuti al termine dunque a 2 a 2 con il gol di Caleb, basta che l'abbiamo aspettato ma va bene pure così. Ovviamente con quella svolta, non poteva che essere svolta che appunto da Nosaka e Ichi Oshii, con i due perni del centrocampo e oserei dire i due perni ora massimi della squadra, senza Giude e Axel, sono un po' loro due i due riferimenti. Mi piace molto per Asuto che è sempre legato un po' a, ha un ruolo da estragno, da uno che viene a sapere le cose dopo, e mi dispiace perché comunque Asuto era il capitano di Ares, era insomma del Raymond di Ares, merita un po' più di rispetto, un po' più di spazio, che purtroppo al momento non ha. Eccolo qua, il comando militare, inizialmente non capivo cosa fosse, pensavo fosse una tecnica di Ichi Oshii, poi in breve ho capito che in realtà è una tattica speciale, ovvero Ichi Oshii analizza quella che è la squadra avversaria e i propri appunto pregi e difetti, lancia metaforicamente quelle che sono le analisi a Nosaka, così con un dito, Nosaka le riceve e ne ritrae le direttive per la squadra e dunque la squadra si sente ora più sicura, si sente con questo percorso delineato di dove deve andare il pallone, di come deve andare avanti, a chi deve passarla, insomma una tattica che mi piace, anche ovviamente surreale, perché immaginate che Nosaka riesca a creare dieci direttive, compreso la sua stessa, quindi unici direttive per ogni giocatore, è una cosa molto surreale, però vabbè Nosaka può, Nosaka può farlo, ci piace, comunque a me il connubi Ichi Oshii Nosaka, spero che rimanga per un bel po', perché l'abbiamo scoperto da poco, è davvero fenomenale, rende il centrocampo solido, sicuramente la parte più importante di una squadra di calcio, secondo me. Eccolo qua, anche Travis che ci spiega che Ichi Oshii ha messo insieme le informazioni, che aveva analizzato, e poi le ha passate a Nosaka, come appunto era stato richiesto ancora prima di iniziare la partita. Asuto riesce a vedere perfettamente il tragitto migliore, e questa è un po' la surrealità, perché investito da questa direttiva di Nosaka, Asuto come tutti gli altri riescono a vedere qual è il percorso da fare, per uscire a evitare gli avversari, è surreale come si riesca a prevedere in realtà le svolte, i passaggi, i movimenti dell'avversario. Però vabbè, andiamo avanti, siamo in una zoom level. Sarà Gojin appunto a provare a tirare, ma con una sorpresa, perché Gojin si caricherà quella che è il mese di fuoco, una mossa che io adoro, ma, finta con passaggio per Heizaki, Heizaki butta fuori una tecnica che io fino a qua, veramente non mi sarei mai aspettato, pazzesco, ma Shark Attack, l'attacco dello squalo, non so come verrà chiamato, lui ha sempre detto che non ha solo pinguini nel suo repertorio, ha il pinguino perfetto, ha la roffetta del pinguino, ha la mossa con i roto, i pinguini demoniaci, ma ha, quindi ben tre tecniche, ma ha pure una quarta, è completa quello che è il suo moveset, idealmente in un gioco, una a quattro mosse, questa è la sua ultima mossa, diciamo, prendibile. Shark Attack, una mossa che mi avrete sorpreso, perché lui non escono pinguini da questo giocatore, e ha messo questo squalo gigante, che mi piace un sacco di come arrivi davanti al portiere, il portiere adoro questa tecnica del ventaglio, molto tranquilla, molto simbolica anche della Cina, prova a prenderlo come se fossero, tipo al sushi con delle bacchette, ma non riesce, 3 a 2, 3 a 2 però attenzione, perché non è un 3 a 2 da dire, è finita la partita come se questo accade, no, perché manca ancora un minuto, e in quel minuto accade di tutto, io ho avuto paura, per la prima volta da sempre, che la Zuba Japan si facesse rimontare nell'ultimo minuto, e quindi all'assero supplementare, eccetera. Poi in realtà, ripensandoci, mi sono detto, vabbè, ma è impossibile, perché tanto, cosa cazzo facciano a giocare, fino a supplementare il rigore, mi sembra una cosa abbastanza, poi anche ripetitiva, sempre queste tecniche tattiche. Sta di fatto che, ricordando un po' il passato, sempre, Liao e i suoi compagni, buttano fuori una tecnica pazzesca, annientamento celeste e terreno, che è la fusione di questi due giocatori, che tirano, ora, se li trovo in fretta, eccoli qua, non mi ricordo bene il nome, però di questi due, che alla fine, vi ricordate, sono anche i due capitani, di, delle due squadre locali cinesi, arrivata questa mossa, fantastica, tra l'altro, ho avuto veramente poco tempo per analizzarla, quindi non so bene, il perché non si è riuscito ad andare a segno, perché è veramente formidabile, ho avuto paura, dunque, per Azura del Colosso, che riuscissero a non fermarla, e effettivamente è così, Azura del Colosso, già, dopo neanche un tempo di partita, dopo neanche 40 minuti, ha già delle difficoltà, perché un tiro di questa entità, molto forte, ma che comunque, non è ancora cinese, dunque, io penso che, il tiro di Claudio Orve, insomma, vi ricordate quello spagnolo, riesca tranquillamente a penetrarlo, appunto, Azura del Colosso, ha bisogno della forza, infondata, anche da Izaki, Asuto e Nosaka, un po' i tre protagonisti di Ares, un po' simbolico, con questa scena, per far vedere che, tutti insieme, per parare, mi fa un po' riflettere, come Azura del Colosso, in realtà, c'è già una mossa vecchia, è così, le mosse di parate, durano da veramente poco, non c'è più, quella durabilità, che vi era un tempo, nei primi di Azuma Eleven, mi ricordo, il Pugno di Giustizia, la mano insuperabile, il Colosso, insomma, la mano di luce, per assurdo, erano tutte tecniche, che duravano un bel po', anche 3-4 parti di fila, venivano utilizzate ogni tanto, invece qua, questa mossa già a un punto debole, ovvero che i tiri, più potenti dei cinesi, sicuramente, saranno difficili da parare, dunque, quando entriamo nel mondiale, questa mossa, secondo me, sarà già obsoleta, vabbè, a quanto pare, abbiamo perso, purtroppo, è il motto di finale, di questa partita, mi dispiace, perché io ho visto, nella Cina, dei protagonisti, mi dispiace, perché come se avesse perso il Giappone, per me la Cina era una squadra, che per quanto non conosciamo veramente niente di tanti giocatori, ma ben poco di per sé, ovvero di Liao, dell'altro protagonista, del portiere, e un po' del difensore, questo qua pancione, degli altri non conosciamo niente, però mi dispiace, perché avevano una grinta, una voglia, un passato che li legava, una determinazione, quanto quella dei giapponesi, quindi io l'ho sempre visti, come possibili candidati, proprio come è fatta la squadra, a vedere un, non so, una linea parallela, un mondo parallelo, che potesse parlarne meglio di questa squadra, che li potesse partire alla vittoria, ovviamente non accadrà mai, perché sarebbe tempo perso, e poi non sarebbe più in Azuma Eleven, non sarebbe in Azuma China Eleven, non lo so, comunque sarebbe gli giocatori cinesi, però la squadra mi è piaciuta, e quindi, ovviamente è stato divertente, detto da Xavier, che non ha fatto niente, però è stato divertente, Travis sapeva tutto, come avevo ipotizzato, nello scorso episodio, ovvero che, sapeva che Chukinuna andasse di là, e aveva detto Chukinuna, a Travis, di quale fosse il motivo, infatti è per questo che Travis, non è mai stato così tanto, stupito, dalla Chukinuna e i suoi movimenti, perché comunque, Travis non sapeva di vincere, non è che poteva immaginarselo, la partita era abbastanza equilibrata, e inaspettata ai movimenti, però sapeva che, grazie a questa partita giapponese, avrebbero trovato, un nuovo modo di giocare a calcio, e questa è un po' la stessa di mano, che identifica queste due squadre, che per la prima volta, ricordiamo una Cina, è la prima squadra pura, una squadra che a me ricorda un sacco il Giappone, proprio per la voglia, la grinta, eccetera, senza intromissione di Orion, a capire che fino a fatto questa organizzazione, non si sa, anche perché ormai le qualificazioni sono finite, e ora è veramente un mistero, perché finché avevano le qualificazioni, vabbè, parita contro diretto, chi perdeva usciva, ora, se arriva ai mondiali, dunque agli ottavi, il Giappone sarà costretto a vincere, ma con quali modalità, con quali giocatori, secondo me ci sarà un po' una rivoluzione, ve la butto lì, secondo me la squadra tenderà un po' a, a sfoltirsi, magari qualche nuovo membro, non lo so, però ci sarà un attimo un cambio, un cambio di squadra, secondo me, anche per identificare un attimo, il passaggio tra qualificazioni, e poi mondiali in sé, che non so se parte dei sedici, ma da aiutare, comunque, la Cina è comunque una squadra veramente ben voluta, anche dal suo popolo, guardate quanta gente si è messa a vederlo, non so, a me ricorda un sacco, l'Inazuma Japan, mi ricorda molto la Raymond, sono protagonisti veramente puri, non ingenui, ma genuini, ecco, giocatori che comunque, giocano a calcio perché si divertono, e ciò mi piace, Liao però rimarrà qua, rimarrà qua con il Giappone, quindi nelle vesti del complice, anche se oramai non sarà più con quel faccione lì, presumo, ma fungerà, penso, da preparatore tecnico, della squadra, non so se ha la possibilità, di cambiare passaporto, e diventare Giappone, sarebbe una cosa molto surreale, dall'altro spero di sì, dall'altro spero di non per due motivi, uno, perché è surreale la cosa, e non può essere, non c'è un cambio di nazionalità, così, e due, perché non saprei al posto di chi metterlo, quindi può star bene in panchina, per quanto sia forte, parliamo dei commenti, poi vi dirò la mia su questo episodio, perché inizialmente gli dissi che non mi è piaciuto, e c'è un motivo, penso che prima di poi succedere una cosa simile a quella in, in Azulmelevent 3, quando Mark, Giudecale e Bedevi sono bloccati la zona italiana, sì, secondo me sì, potrebbe succedere una cosa del genere, però già è una cosa diversa, perché in Azulmelevent 3, non c'era tutta questa panchina folto, non c'erano due portieri, e non c'era tutta questa, voglia di appunto mettersi in mostra, praticamente da tutti, tranne veramente pochi, tutti hanno un particolare, quel tranne mi riferisco a Xavier, a, oddio, come si chiama, con l'unica appello, non me lo ricordo manco, non Masuda, ma vabbè, insomma, quel ragazzo di Ares, alto, è entrato pochissime volte, Nathan mi sembra molto un po' sprecato, Yura sprecato, Golem sprecato, vabbè, insomma, sicuramente ci sarà un cambio, secondo me, secondo me, adesso finirei le qualificazioni, ci sarà magari anche una pausa dell'anime, sempre una mia ipotesi, una mia teoria, e poi si parte con i mondiali con una nuova squadra, che ha come fondamento molti di loro, ma chissà, magari c'è un attimo un rimpasto, prossimo commento, di Joelle Di Guiglielmo, Caleb è almeno a Circo Massimo, ma Xabi non ha tecniche, poi erano i tuoi zacchi, non sono granché, il Pinguin del Godeble, ormai è parabile, Axe deve tornare, allora, Joelle mi conferma, che in realtà Circo Massimo, già, era una mossa utilizzata, io, da quante volte che l'avevo sentita, cioè quasi mai, non me la ricordavo, quindi bene, Xabi non ha tecniche, e io lo continuo a ripetare, secondo me, Xabi è l'anello debole della squadra, cioè dall'essere un titolare, inamovibile, perché ricordiamo che Xabi era un titolare, insieme a Jude, è diventato una panchinaro, è arrivato in Osaka, Ichi Oshii si è messo in mostra, Jude nel frattempo è uscito, ma ha preferito Caleb, la squadra, ci ha preferito Yura, non lo so, non mi piace Xabi, è peccato, perché per me è un gran giocatore, ma secondo me, se ci sarebbe, se ci fosse un rimpasto, di questi giocatori, lui è il primo che salta, sicuro. Il prossimo commento del Tanke, ma credo che il centrocampo avrà nella Zuma Japan, quando rientrerà Jude, Nicoloc dice che in realtà, Jude, Nozaka e Ichi Oshii vedo troppe menti e poca scrocchia, io la ipotizzo come tanto fumo e niente arrosto, in realtà io vedo sia fumo che arrosto, ma è come mettere Ronaldo, Messi e, non lo so, e Modric assieme, non è che se sono tre forti, ti combinano per forza quello di forte, potrebbero andare in contrasto, e quindi non lo so come posso vederlo, sicuramente è un buonissimo centrocampo, tutto devo ancora un po' metabolizzare come Jude rientrerà al posto di chi, perché ricordiamo che la panchina è comunque molto folta, e Jude deve trovare lo spazio, che sicuramente avrà privilegiato. Ultimo commento, sinceramente questa cosa che ha detto di Gojin è troppo leggero, l'ho trovata un po' stupida, allora, a me, la storia è piaciuta, per il fatto che non hanno messo una cosa a caso, come per dire, mi sono allenato, appunto, ho affinato la tecnica, hanno dato un episodio di spazio a Gojin, un giocatore che comunque, al pubblico piace, a me piace, come pensate tutti voi, l'hanno creata un po' così, a me, vi ripeto, era molto surreale la tecnica con cui si è evoluta l'animazione di fuoco, però va bene pure così, tanto, questo tipo di storia abbiamo sempre visto che è una cosa originale, dunque non ci sarà mai una roba simile per un altro tipo di tecnica. Diciamo che sì, è un troppo leggero, l'ho trovata un po' stupida anche io, però, dai, va bene pure così. L'epiodo finisce qua, allora a me non è piaciuto, partiamo da questo presupposto, ma non tanto per la scuola cinese o per il giapponese, anzi, ma perché è stata un po' monotona la partita, la Cina aveva tante tecniche, tante tattiche e forse troppe, non lo so, potevano secondo me tirarla un po' meno per le lunghe, magari far finire la parità verso la vista dell'episodio e poi raccontare qualcosina di più, ma il mio presentimento è che stiano un po' allungando, arrivando tipo all'episodio 22, 23 o 24, quando un anime classico finisce, tipo a 24 episodi, e poi ci sarà una pausa. Non lo so, io ho questo presentimento, come se dopo Orion ci sarà una bella lunga saga da 60 episodi sul mondiale e boh, sullo spazio, chissà perché, questo presentimento è che andrà sullo spazio, spero di no, ma non lo so, qualcosa accadrà sicuro, Orion non è morto, Ray Dark dov'è? Insomma, tanti dubbi. però non mi è piaciuto perché è un po' monotono l'episodio, un po' avanti, indietro, attacca, difendi, attacca, difendi, attacca, difendi, il come poi si è apparato per l'ultima mossa di Liao, è stato un po' deprimente, perché Liao meritava quel gol, però vabbè, giocavano contro il Giappone, il Giappone deve vincere. Spero che questo video commento ragazzi vi sia piaciuto, fatevi sapere nei commenti che non ne pensate, ci vediamo alla prossima, Ciao ciao!